Cristanti lo diceva nel convegno, diceva io non so mai se un film che produco andrà bene, perché ogni volta lavoro un prodottico. Devo dire che se fosse lì oggi si sarebbe accorto che purtroppo il cinema è diventato una fabbrica di seriali, non è diventato una fabbrica di prodotti. Per cui appena un film ha successo lo devo fare due, tre, quattro, quelle tecnologie hanno anche alzato talmente i costi di produzione che devi fare due, tre, quattro per ammortizzare l'impianto dei modelli 3D, delle scenografie, di tutto quello che accade. Per cui purtroppo, adesso non è purtroppo, è un'altra epoca, è un altro secolo, però quello che Cristanti diceva nel Novecento, cinema, una fabbrica di prodotti, era vero, ma nel 2000, nel ventunissimo secolo, non è più vero. No, ma è un argomento che rincove sempre, il quale ci siamo già soffermati, cioè l'idea che molti film di quegli anni 70, 80, sono film che oggi sarebbero impossibili da produrre per molti motivi, un cinema profondo, non dire che oggi non ci sono film interessanti, serie interessanti, però è tutto un'altra cosa. Allora, io parlo per i film che conosco, che sono i miei, perché io non sono un cinefino, non è che conosco a memoria tutti i film degli altri, però i miei film, Stefano Quante Storie, Ragni Saponetti, Volere Volare, visti con le interruzioni pubblicitarie, visti con i cambi di canale, visti da metà invece che dall'inizio, posso capire che sia un difficile, perché se tu arrivi su Volere Volare, se uno è diventato un creatore animato, e gli dici, ma non riesce, non è stata gente, è una stupidaggia, se tu vedi l'agri di Saponetti da metà, non capisci perché, da dove è partito, chi è quello lì che entra dentro del film, se tu vedi Stefano Quante Storie e non cresci assieme alle storie di Stefano, è difficile. Mentre tu quando giri e arrivi su una storia di un triacolo amoroso, tra lui e lei e l'altro, dove uno è buono e uno è cattivo, dove uno è malato e l'altro è tremendo, anche se non hai visto i primi venti minuti, lo capisci sempre. E questo purtroppo è il motivo per cui gli editor della televisione ti togliono tutte le cose un po' più perplesse da capire, perché sennò in televisione non riesci a catturare il trucco, anche dopo mezz'ora che è cominciato il film. Cambiano canale. Cambiano canale, per di un corso. Però non è più cinema, stiamo parlando di televisione.